E' stata approvata la programmazione degli eventi culturali che caratterizzeranno l'estate lucerina 2018, promossa dal Comune di Lucera, nelle persone del Sindaco Antonio Tutolo e dell'Assessore della Cultura Carolina Favilla, dalla prima commissione consigliare permanente in collaborazione con l'Associazione Strumenti e Figure. Secondo l'amministrazione, il valore aggiunto che ha permesso la proposta di strumenti e figure di risultare vincitrice è dato dalla presenza di artisti come Michele Placido, Gene Gnocchi e Gio Becovatta, dalla partecipazione di Oreste Castagna, celebrità per i più piccoli e non solo, e dal coinvolgimento e valorizzazione dei talenti locali. Ad arricchire il cartellone estivo di Lucera ci saranno anche eventi come il Festival Radici, il Laboratorio di Cultura e Cittadinanza dal 3 al 5 agosto, il 16esimo Festival della Letteratura Mediterranea, il Torneo delle Chiavi e il Corteo Storico. Inoltre la programmazione degli eventi estivi vedrà il tanto atteso Ferragosto Lucerino a cura di RT Eventi di Lello Trivisonne che partirà il 15 agosto con il concerto del rapper napoletano Clementino, idolo delle nuove generazioni, e culminerà il 16 agosto con il concerto del cantautore romano Luca Barbarossa. In calendario per tutto il mese e il mese di agosto a Lucera dunque musica, teatro, cinema e tanti eventi per tutti i gusti.